È una iniziativa importante, il Comune di Venezia vuole essere presente nelle nostre scuole. Questa è una delle scuole importanti per la città metropolitana perché è l'istituto Pacinotti. L'obiettivo è quello di informare e formare. Siamo stati la prima città che ha imposto i limiti di velocità in monopattini, cioè i 20 km all'ora e questo ci ha dato grande soddisfazione perché abbiamo avuto incidenti pari quasi a zero. È fondamentale spiegare come utilizzare in maniera corretta e responsabile anche il monopattino elettrico. Abbiamo oltre 160 stalli sul territorio e 400 monopattini in funzione grazie alla BIP. Però la cosa importante è ricordare a tutti un uso responsabile, essere attenti, rispettare i codici della strada. Ragazzi, sempre casco fino ai 18 anni e soprattutto anche nell'ambito del proprio monopattino ridurre la velocità. Grazie. 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 Grazie.